Ciao, io sono Silvia Giordano e in questa nuova linea di video parleremo di tutto quello che dovresti sapere per cominciare al meglio la tua carriera da insegnante. Usciranno infatti in questa prima nuova fase dell'anno scolastico diversi video su questo argomento che potrai riconoscere dalla grafica. Per non perderteli devi fare due cose fondamentali. La prima iscriverti al canale con il tasto iscriviti che trovi proprio qui sotto al video o se usi poco youtube mettere il segui alla mia pagina facebook o instagram prof giordano silvia. Due soluzioni ancora più semplice visualizzare e salvare la playlist che trovi linkata qui in descrizione con il tasto apposito in modo da ritrovarla sempre sulla tua app di youtube sempre aggiornata mano mano che usciranno i miei nuovi video. E ora parliamo di quel che è giusto parlare in questo momento dell'anno in cui mancano ancora pochi giorni a settembre. La maggior parte di voi insegnanti non è ancora arrivata in classe e neanche ha messo a piede a scuola. Quindi parliamo del come organizzare lo spazio a casa. Non sottovalutare infatti l'importanza di avere uno spazio ben strutturato nella tua casa da dedicare esclusivamente all'insegnamento. Sappiamo tutti che nel nostro lavoro c'è una forte componente di lavoro sommerso domestico, preparazione delle lezioni, correzione delle verifiche, ripasso degli argomenti, stilare documenti vari, burocrazia e quindi avere uno spazio già ben organizzato e pronto fin dall'inizio ti farà risparmiare un sacco di tempo. Punto numero 1 i libri e non sto parlando solamente dei libri di testo che avrete in uso nella vostra classe anche se a ben vedere certamente di quelli avrete bisogno. Quindi appena arrivati a scuola chiedete ai vostri colleghi se esistono nell'edificio scolastico delle copie che nessuno sta utilizzando dei libri associati alla vostra classe magari accontentandovi anche temporaneamente di una copia studente invece che una copia insegnante. Però al più presto fatevi dare i contatti del rappresentante locale della casa editrice associata al libro di testo appunto per contattarlo e chiedergli di fornirvi i libri il prima possibile. Una volta fatto questo sappiate che non sono gli unici libri di cui avrete bisogno, infatti molto spesso avrete bisogno di consultare altri libri preparando le lezioni, quindi date un'occhiata ai libri della vostra materia che ci sono a scuola, magari nella libreria scolastica, per controllare se c'è qualche cosa che vi potrebbe ispirare. Ci sono spesso molti volumi di altre case editrici che hanno magari delle schede particolari, che hanno degli approfondimenti, che in generale trattano l'argomento in maniera diversa che vi danno spunti particolari che potreste voler utilizzare durante le vostre lezioni. Potresti avere anche bisogno di libri di testo del tuo percorso di studi per ripassare in maniera approfondita l'argomento, per prendere spunto per la preparazione di materiale particolare per alcune lezioni o magari hai bisogno di materiale più approfondito da dedicare alle eccellenze e alla plusotazione. E come dicevo prima non trascurare i libri di testo che appartengono ad altre scuole, magari anche le tue scuole nel tuo passato, ma anche di altre case editrici, di altri istituti scolastici che hanno i tuoi colleghi o che hanno i tuoi figli. È possibile che all'interno ci siano delle preziose risorse che ti faranno comodo durante l'anno, banalmente anche solo i tipi di esercizi proposti che potrebbero darti ispirazione anche per le tue verifiche. Ricordati di dare un'occhiata anche ai libri di testo semplificati, a quelli multilingue o quelli che forniscono mappe riassuntive perché sicuramente nella tua classe ci saranno studenti BES, studenti madrelingua, studenti con programmi differenziati, studenti con DSA o studenti con plusotazione. Non farti trovare impreparato. Vedremo insieme nelle prossime settimane come utilizzare questi testi al meglio. Ma oltre ai libri di testo parliamo dei supporti cartacei. Se sei come me, uno di quegli insegnanti che non hanno mai abbandonato la carta, anche perché lo sai, c'è uno studio scientifico che spiega esattamente perché la memorizzazione su supporto cartaceo è migliore di quella su supporto digitale. Ne parliamo a fine video, ma dicevo, se ami i supporti cartacei allora sicuramente potrebbero servirti diversi tipi di quaderni, registri, vedremo, che ti verranno utili durante l'anno. Vediamo un pochino di idee. Ti faccio un esempio di quelli che uso io durante il mio anno scolastico. Per esempio, per non perdere il filo di tutte le riunioni, collegi, dipartimenti, per le funzioni strumentali, magari sei un referente della formazione, magari sei un referente per il digitale, magari sei dentro a progetti particolari, ecco io ti consiglio di prendere un quaderno dedicato a questi progetti extra in cui mettere tutti gli appunti, tutte le fotocopie, le circolari, tutto il materiale che ti serve riunito in un unico posto. Potrebbe servirti anche un quaderno in cui tenere nota delle lezioni e di come proseguono durante l'anno scolastico. Io per esempio ne ho uno per ogni materia, in realtà ogni anno cerco di riunire in uno stesso quadernone, non ci sono ancora riuscita, in cui mi insegno mano a mano che vado avanti gli argomenti che ho svolto, in cui raccolgo le fotocopie, i materiali in più per gli studenti, quelli che finiscono sempre prima e si annoiano a fine verifica o a fine esercizio, tengo le fotocopie delle mappe che ho distribuito per quando le perdono gli studenti, per quando se li dimenticano a casa durante le interrogazioni, mi insegno anche le annotazioni varie riguardanti gli studenti. Parleremo presto anche proprio dei registri digitali e cartacei in questo momento, ma intanto per esempio, appunto, prova riflette se potrebbero servirti alcuni di questi quaderni che ti ho appena elencato. Parleremo nel prossimo video su cosa convenga di più, cosa è più comodo, il registro analogico o quello digitale. È vero che il registro digitale è obbligatorio, ma posso ottenere un registro analogico? Cosa devo segnare da una parte e dall'altra e perché dovrei fare le cose in doppia copia? È uno dei prossimi video che usciranno su questo canale. E ora, terza cosa, dopo aver parlato di tanta carta, parliamo del digitale. Non si può essere insegnanti oggi senza avere una buona organizzazione online. E su questo, credetemi, potremmo parlare ore e ore e probabilmente lo faremo, ma iniziamo dalle basi. Innanzitutto, l'account e la password istituzionale. Li devi richiedere in segreteria o chiedi all'animatore digitale. Ricordati di non portarti mai le password segnate in cartaceo a scuola. I ragazzi ci mettono un lampo a rubartele anche se tu pensi di averle scritte nella maniera più furba possibile in un posto dove loro non le vedranno mai. Hanno mille occhi e sono molto più veloci di noi. Cerca di tenere tutto segnato a casa o al limite segnato sul tuo cellulare. E attenzione, ricordati che tutti i dati digitali che hai all'interno del registro elettronico, del tuo account, la mail, su Drive e vari ed eventuali, sono tutti i dati di cui tu sei responsabile. Se ci sono dei dati sensibili all'interno dei tuoi account e chiaramente ci sono all'interno del registro elettronico, devi essere in grado di proteggerli e di evitare che rimangano per caso a disposizione e invisibilità a qualcuno che non dovrebbe. E ovviamente parleremo molto presto anche di questo, su come maneggiare il proprio computer, il computer della scuola, come comportarsi con i nostri account e il registro elettronico per avere la massima sicurezza dei dati all'interno di essi. Ma a parte questa piccola parentesi, torniamo noi. Prima di cominciare l'anno scolastico dovete fare mente locale sui programmi e sulle app che avrete intenzione di utilizzare o per preparare delle lezioni oppure che vorrete utilizzare in classe con i ragazzi. Oggi non c'è più nessuna materia che si può scampare dall'avvento del digitale. Abbiamo tutto il dovere di fare qualche cosa in classe o lasciare i compiti a casa che aumentino le competenze digitali dei nostri studenti che spesso arrivano che semplicemente sanno scrivere su una tastiera touch, sanno gestire le loro app, ma quando gli si chiede già di utilizzare Drive o di mandare una mail, rivelano tutta la loro, giustamente, incompetenza. Quindi abbiamo bisogno tutti quanti di collaborare per insegnare loro tutto quello che gli serve per sopravvivere in un futuro che sicuramente richiede delle competenze digitali. Anche di questo parleremo ovviamente ampiamente e intanto che arrivate a scuola quindi cominciate a informarvi su quanto digitale è la vostra scuola, quindi quanti computer ci sono, c'è un'aula di informatica, ci sono dei tablet, i colleghi tra di loro si scambiano il materiale ancora alla vecchia maniera cartaceo oppure hanno dei Drive condivisi, si mandano mail e quei ragazzi come fanno a scambiarsi materiale? Mandano video? Utilizzano del materiale per studiare che è digitale invece che fornire le fotocopie? Con che cosa glielo forniscono? Hanno dei gruppi mail? Ci sono delle app come Classroom? Usano Google Workspace o usano Microsoft Teams? Intanto appena arrivata comincia a raccogliere queste informazioni che ti saranno molto utili per non farti trovare impreparato appena arriverai in classe. E come dicevo in quanto animatrice digitale e appassionata sicuramente di tutti gli strumenti digitali potrei parlarvi ore e ore di come ottimizzare al meglio il vostro insegnamento utilizzando le applicazioni digitali e gli strumenti digitali. Quindi sicuramente presto parleremo della LIM, delle app per la didattica che io vi consiglio, degli strumenti digitali per voi docenti per non perdervi nel marasma della vita online e di tutti gli strumenti informatici che potreste utilizzare con i vostri studenti. E qui chiudo, come avevo promesso, parlando proprio di questo studio scientifico uscito su le scienze e che ha permesso di confrontare la memorizzazione di alcuni concetti letti su brani più o meno lunghi, insomma è stato uno studio piuttosto corposo, somministrati tramite carta o tramite supporto invece informatico. Ve lo lascio il linkato qui in descrizione, trovate la versione anche da fornire ai ragazzi perché è un testo che è uscito qualche anno fa in una prova in valsi e ve ne consiglio la lettura un po' per sentirvi meno soli quando pensate che per studiare davvero dovete stampare le cose e sottolinearle e guardarle sulla carta, ma anche per convincere i vostri studenti che tutto quello che gli facciamo fare in classe e a casa, sottolinea, scrivi, ricopia, schematizza, eccetera, ha un senso ed ha un suo perché. E per oggi è tutto, penso di avervi dato parecchio da lavorare, se avete qualsiasi domanda commentate qui sotto il video o contattatemi direttamente tramite i social, ci vediamo alla prossima puntata.